Onorevole Giuffrida, quali potrebbero essere le ricadute del Brexit sul bilancio comunitario? In realtà già prima della Leave della Gran Bretagna ci sono state molte e molte riunioni ovviamente riservatissime in commissione perché era chiaro che nel caso in cui ci si dovesse trovare davanti a una decisione quale poi è stata bisognava in qualche modo organizzarsi quindi non è ufficiale ma già da tempo la commissione riflette su quel che sarebbe potuto accadere e che adesso è accaduto. Il Brexit non è ancora stato formalizzato, c'è chi dice che lo sarà solo a settembre o forse dopo ed è chiaro che da quel momento poi partiranno le trattative vere e proprie. I dati di fatto ci dicono due cose, ci dicono innanzitutto e questo è un dato che fa molto riflettere che le contee dove il Leave ha avuto più forza sono proprio le contee che ricevevano più fondi strutturali e l'altro dato è che l'Inghilterra è il terzo contributore della Unione Europea e che adesso c'è da recuperare un bel po' di soldi da questo punto di vista che non arriveranno ma c'è anche da fare i conti con quanto era stato stanziato per la Gran Bretagna facendo focus sui fondi strutturali dei 10 miliardi di fondi complessivi 6,9 vanno a finire in Gran Bretagna a questo punto c'è da interrogarsi su quello che sarà di una programmazione che porta due date 2014-2020 ma anche di una legislatura che ovviamente è cominciata nel 2014 ma che la Gran Bretagna ha deciso di interrompere prima e quindi le tesi più accreditate dicono che è molto probabile che la Commissione decida al 2017 di sospendere le proprie erogazioni riguardo la Gran Bretagna chiaramente sarà tutto da rivedere perché l'impasse procedurale e burocratico è non indifferente in quanto questi soldi sono stati stanziati e in teoria il Regno Unito li starebbe già utilizzando Cosa succederà al Regno Unito? Riceverà dei rimborsi per quanto già versato per il periodo 2014-2020 oppure no? Questo è ovviamente un mio parere ma più fonti ritengono probabile questa ipotesi se si dovesse arrivare ad una sospensione dei fondi nei confronti della Gran Bretagna c'è da fare un ricalcolo vero e proprio anche su quanto la Gran Bretagna ha dato come apporto finanziario all'Unione Europea Quali saranno le ricadute sui vari fondi europei? Pensiamo ai fondi di coesione, a quelli sociali, a quelli strutturali della mancata partecipazione del Regno Unito d'ora in poi? Diciamo che per usare una metafora l'Unione Europea ha le spalle larghe il problema da porre è quale Unione Europea vogliamo costruire dopo il segnale molto grave che è venuto dall'uscita del Regno Unito che non dobbiamo sottovalutare quindi mi direi assolutamente tranquilla rispetto ad un'ipotesi di redistribuzione ma non dobbiamo dimenticare che per esempio i fondi per la coesione subiranno una rivalutazione complessiva e generale un ripensamento anche già nella prossima programmazione e andiamo incontro a un medio termine che ci vedrà impegnati nella revisione stessa dei fondi strutturali e delle politiche di coesione il mondo cambia, le esigenze dell'Unione Europea sono cambiate e se prima il bilancio dell'Unione era per il 50% versato sull'agricoltura e per oltre il 30% versato sulle politiche dei fondi strutturali di coesione, di sviluppo regionale, di fondo sociale non è detto che domani queste cifre possano essere confermate le nuove priorità sono la sicurezza, le nuove priorità sono l'emergenza e migrazione e sono anche un'innovazione tecnologica che non può più aspettare